Siamo alla conclusione del Monte Mario Bike Night, siamo nel parco del Pineto e siamo venuti a controllare l'illuminazione pubblica. Effettivamente ci si vede, quindi vediamo, c'è un lungo corridoio illuminato dove qualcuno nella palestra fa sport, c'è un paio di persone che utilizzano gli attretti. C'è qualcuno che corre, però sostanzialmente l'amministrazione non ha pensato a come rendere effettivamente vivo, viva quest'area, perché poi l'illuminazione fine a se stessa di fatto è solo spreco di soldi pubblici, tanto vale risparmiare soldi di elettricità se non dobbiamo farci niente. Quindi siamo venuti qui per dire ragazzi che vogliamo fare? Se avete delle idee scrivete alla mail in sottoimpressione e le porteremo in municipio e al comune. Qui ricordiamo su quest'area ricadono i confini del municipio 13 e 14, quindi coinvolgeremo sia i presidenti di municipio che i nostri portavoce comunali.